Gentili telespettatori, buona giornata. Ma questi politici veramente sono inascoltabili e il livello che hanno in generale i politici italiani non è un livello basso, de più, de più, sono a livello del pavimento, no, sono a livello sottoterra, vi ho parlato nel video precedente di quello che si fa le foto all'esse lunga col carrello stracolmo di fronte al 60% di italiani che sono o poveri o quasi poveri e poi vediamo la figuraccia di Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna, che io direi, Bonaccini, non parlare, dopo quello che è successo in Emilia Romagna, con l'alluvione e i disastri che ci sono stati e in gran parte dovuti a delle opere mai fatte o non terminate, forse sarebbe il caso di non parlare proprio dalla vergogna, dalla vergogna, perché i giornali di sinistra sono stati zitti, quelli di destra hanno tentennato, mamma, mamma, non so... va beh, andiamo avanti, sentite la figuraccia di Bonaccini di oggi e guardate che i miei video sono tutti ragionati, i miei video non sono delle prese di posizioni a cavolo di cane, non sono delle prese di posizioni così, no, sempliciotte, sono dei video dove io vi faccio un ragionamento, un ragionamento fatto con i piedi per terra, con delle cose reali, reali. Allora, Bonaccini insorge, la difesa taglia i fondi per il Sacrario, il governo rimedia questa assurdità, dice Bonaccini, Stefano, senti Stefano, ma prima di parlare hai ragionato dieci minuti, cinque minuti? Ti sei informato prima di parlare? Forse non ci voleva molto per informarsi, forse prima di fare delle dichiarazioni pubbliche chiami direttamente Crosetto, il ministro della difesa, dici senti Crosetto, ma cos'è questa storia che avete tagliato i fondi per il Sacrario di Marzabotto, dei caduti? E Crosetto avrebbe risposto con i fatti, cioè, riferendo quello che realmente è successo. Perché Bonaccini insorge, il governo ha tagliato e non sta mandando i soldi per il Sacrario di Marzabotto. dice, la memoria non è questione contabile, è chiaro, dice Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, tipo presidente della Longobarda, presidente dell'Emilia Romagna. Attacca il ministro della difesa dopo che la sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, ha scoperto la decisione di ridurre i fondi per la cura del Sacrario della città del Bolognese, teatro di uno degli ecidi della seconda guerra mondiale. E il presidente della regione Bonaccini dice, sbagliato, inaccettabile, è chiaro? Ecco. Ma Crosetto dice, oh mamma mia, questi di sinistra sono veramente di una superficialità. Ma come? Beh, dicono di essere la classe più intellettuale, più acculturata dell'Italia, di essere quelli che hanno studiato, quelli che sanno parlare, quelli che sanno dove va l'acca, dove va l'accento, no? Quelli che si sentono superiori moralmente a tutti e ti guardano dall'alto in basso e ti dicono, sei una schifezza, vai via schifezza. Questi dicono, ma non pensano prima di parlare? Ma non pensano prima di parlare. Cosa dice Crosetto? Crosetto dice, nell'ansia della sinistra di dimostrare che pericolosi fascisti sono al potere in Italia? Scopro che il sindaco del PD di Marzabotto prima si dimentica di chiedere i fondi per il sacrario, poi li chiede in ritardo, poi urla che li abbiamo tagliati. I fondi ci sono? C'erano prima del governo Meloni? Ci sono con il governo Meloni e ci saranno anche dopo il governo Meloni. Mamma mia, come state? Cioè, la sindaca si dimentica di chiedere i soldi, li chiede in ritardo e chiedendoli in ritardo non fanno tempo ad arrivare e poi va a lamentarsi col presidente della regione? non ci danno i soldi del sacrario dove c'è stato l'eccidio della seconda guerra mondiale. Hai capito? Sono al governo quelli là e non mandano i soldi per l'eccidio della seconda guerra mondiale. È chiaro? Mamma mia, come state? Mamma mia, come state? Ma io mi chiedo, quelli di sinistra, che sono tanti sul canale, che vedono questo video come tanti altri, ma non vi vergognate della vostra area politica, ma vi rendete conto di che livello basso, superficialotto e sempliciotto c'è? Anche dall'altra parte è uguale, dall'altra parte abbiamo Lollobrigida, abbiamo Ciuffetto Giambruno che dà delle pecore ai migranti, insomma, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti. E Crosetto dice, ah cavolo, noi siamo i pericolosi fascisti, quella si dimentica di chiedere i soldi e noi siamo i pericolosi fascisti. Ripeto, mamma mia, come state? Ma Crosetto, cioè Crosetto, ma Bonaccini non si è vergognato? Ma non ha gridato a questa sindaca? Ma cosa fai? Mi prendi in giro? Mi fai fare delle figure da cioccolataio? Mamma mia, come stai Bonaccini? E mamma mia, come sta la sindaca? Mamma mia, mamma mia. Ma la sindaca, secondo quando riferito in un primo momento, aveva denunciato il taglio di due terzi del finanziamento per il mantenimento del sacrario e Bonaccini era andato su tutte le furie. Il taglio dei finanziamenti è una ferita di qua, è una ferita di là. E poi si scopre che non c'è nessun taglio, ma si è dimenticata di chiedere i soldi. Ripeto, mamma mia, come state messi? Ma come state messi? Ma ripigliatevi, ripigliatevi, ripigliatevi. Fate ancora tempo a riprendervi, ce la potete fare. nessuno è perso, ce la potete fare, ripigliatevi. Arrivederci a tutti e grazie.